benvenuti sul nostro canale privacar san cesario oggi vi presentiamo in vendita questa bellissima smart forci del 2017 con motore 1000 da 71 cavalli ma prima di iniziare a scoprire perché acquistarla e perché ve l'abbiamo messa in vendita vi ricordo di iscrivervi al nostro canale youtube per rimanere sempre aggiornati e se attivate la campanellina sarete sempre tra i primi a non farsi scappare tutte le nostre offerte ma iniziamo e partiamo proprio dall'avantreno con gruppi ottici e luci diurne a led quello che mi piace di questa smart è proprio questo colore nero aggressivo che contrasta con il bicolor grigio metallizzato che ritroviamo non solo qui nei cerchi lega di color da 15 pollici pneumatici che si trovano ancora all'ottanta per cento con taglio per la pioggia e battistrada per ruote invernali ma lo troviamo anche all'interno dicevamo il bicolor come vedete di carrozzeria si trova in eccellenti condizioni del 2017 con pochissimi chilometri stanno diventando sempre di più una rarità queste vetture proprio per il fatto che ormai le smart benzina non si producono più e quindi solo elettriche gli interni come vedete con le cuciture a contrasto anche qui non abbiamo nessuna abrasione cicca di sigaretta o strappi sul tessuto come bellissimo bellissimo più che altro comodo il bracciolo centrale ecco la gestione del cambio automatico della climatizzazione e dell'infotainment questo è la corona del volante come vedete non ci sono segni di abrasioni e la gestione poi di vari comandi che vi spiegherò più avanti l'auto ha circa 40.000 chilometri ed è stata appena tagliandata adesso non ci rimane che però andare su strada e vedere anche come si comporta il motore l'accelerazione il cambio delle marce la frenata e la lista di tutti quanti gli accessori e per questo partiamo mi piace innanzitutto il total black mi piace innanzitutto il total black che si trova anche all'interno il bicolore esterno anche qui all'interno con questo grigio satinato metallizzato che contrasta con tutte le parti nere della vettura con i sedili e la plancia in tessuto carino anche il contagiri qui a sinistra proprio a portata d'occhio con anche l'orologino inserito all'interno ma la cosa che mi piace di più dell'ultima serie della smart è proprio lo sterzo perché si ha la sensazione quasi di guidare una macchina da formula 1 per come sono stati posizionati tutti quanti i comandi per la gestione dell'infotainment del limitatore di velocità e anche del cruise control davvero molto carino si presenta all'occhio di impatto molto molto bello ma adesso passiamo un po più alla sostanza vediamo come si comporta questo motore partendo da fermi in accelerazione soprattutto il cambio automatico faremo questo test per verificare anche l'attuatore delle marce perché di solito sulle smart inizia a dare un po di problemi ma partiamo schiacciamo a tavoletta e vediamo come va il 71 cavalli accelerazione progressiva il cambio di marce è stato immediato siamo a 80 chilometri orari wow impressionante e la frenata è stata sensibilissima abbiamo appena schiacciato il pedale e subito l'auto è entrato in funzione l'abs non so se avete sentito anche quando la ruota tentava di slittare di perdere appunto evitare per perdere aderenza come si è attivato istantaneamente l'abs quindi accelerazione progressiva il cambio delle marce è stato immediato addio vecchio cambio delle marce delle vecchie smart che passavano un'eternità prima che si innestava la seconda marcia per quanto riguarda gli accessori essendo una passion comunque abbiamo il tetto panoramico che mai guasta su queste vetture ovviamente cambio automatico start e stop il climatizzatore non automatico manuale la gestione dell'infotainment su questo autoradio con porta usb ingresso aux e anche la gestione dei comandi vocali grazie alla funzione del bluetooth ma per tutte le altre informazioni potete cliccare sul link in descrizione qui su youtube per accedere a tutte le foto informazioni e anche la lista di tutti gli accessori ma soprattutto il prezzo per questo nei numeri che compaiono successivamente potete contattarci per tutte le informazioni vi aspettiamo qui nella nostra sede di san cesario grazie a tutti grazie a tutti